Questo piatto nasce negli anni 80, in un periodo incredibile per la ristorazione italiana. La trasformazione della cucina della nonna e della mamma della zia in una cucina moderna, nuova. In questo piatto tutti gli elementi sono protagonisti. Le penne, la panna, l'aglio e il peperoncino. È un piatto straordinario, un piatto che ho preparato almeno 15 milioni di volte nella mia vita. Ancora oggi, quando arrivo a casa la sera o quando arrivo a casa la notte e dopo un film ho una gran voglia di un piatto di pasta, questo è l'Asso di Brescola. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Penne sgambero in salsa all'aglio piccante